Siamo all'inizio del ventunesimo secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle fighe di legno e le loro cazzate atomiche. Sulla faccia della terra le ragazze che la davano erano scomparse e le relazioni sentimentali avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza maschile era sopravvissuta. Sei come tutti gli altri, fai il carino con me solo perché vuoi il mio corpo, ma io sono qualcosa di più che un bel paio di tette. Tecnica della verità inconfutabile. E cosa? No, tu mi piaci soprattutto per la tua persona... Ken, sei tu. Fantastico manista. Scelepi per farse ormai la vista. Ken, sei tu. Grazie a tutti.